La nostra regione continua ad essere interessata da un campo di alta pressione di natura subtropicale che determina condizioni di tempo stabile con temperature che durante le ore diurne raggiungono valori ben al di sopra della media stagionale. Alta pressione che nel corso di questo fine settimana verrà demolita a causa del passaggio di una moderata perturbazione di origine atlantica perturbazione che interesserà però più direttamente le regioni centro-settentrionali della nostra penisola ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 24 ottobre cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore settentrionale della regione con possibilità di precipitazioni sparse che nel corso della giornata tenderanno ad estendersi alle rimanenti aree. Temperature in diminuzione dal pomeriggio, venti da deboli a moderati da sud-ovest e mare da poco mosso a mosso. Domenica 25 ottobre condizioni di nuvolosità variabile con basso rischio di precipitazioni o al più qualche piovasco potrebbe interessare le aree montuose. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, venti tra deboli e moderati da nord-ovest e mare mosso. A partire da lunedì una più intensa perturbazione potrebbe interessare l'intera nostra penisola ad iniziare dalle regioni nord-occidentali. Il fronte perturbato raggiungerà la nostra regione dalla serata determinando un sensibile peggioramento con piogge diffuse anche a carattere temporalesco. Diminuiranno ulteriormente anche le temperature specie tra martedì e mercoledì. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.